Ciao a tutti, sono Eller e in questo periodo di quarantena ne sto approfittando per fare tutte quelle cose che non riesco a fare durante l'anno, come per esempio cantare, come per esempio leggere un sacco di libri, guardare i documentari in tv e soprattutto scrivere! E sto scrivendo i miei diari della gratitudine! So che non c'è bisogno che ve lo dica, ma dobbiamo tutti stare a casa per il benessere reciproco e questa reciprocità è qualcosa che mi fa riflettere su quanto il benessere di ognuno di noi sia importante per il benessere del prossimo. Io resto a casa, e voi? Io resto a casa, viaggiando con i libri in terre lontane. Io resto a casa per pianificare i miei sogni ed i miei obiettivi futuri. Una delle cose che mi manca di più fare in questo periodo è allenarmi, andare tutti i giorni in palestra, compiere il mio dovere da atleta e sentirmi meglio con me stessa. In questo momento però non è possibile, quindi mi alleno a casa con mezzi di fortuna. Resta anche tu a casa e fai come me. Io resto a casa. Noi restiamo a casa. Resto a casa per svegliarmi con tranquillità, senza orari, e godermi i momenti di relax con mio marito e le mie mostricciatole. Ciao ragazzi, sono Sabrina del canale M73 Woman. Io la palestra la faccio in casa. Fatene anche voi, mi raccomando, io sto a casa. Ciao! Ciao a tutti! Mi raccomando, state a casa! Perché a casa... Si possono fare tante cose belle, tipo disegnare con l'acquarelli, con le costruzioni, fare una torre alta, fare un bagnone... Ma quante cose si possono fare? Veramente? Tante! Tantissime! Ciao! Ciao! Noi ne approfittiamo per giocare, vero Mickey? Vero? Io e Mickey stiamo a casa. Noi stiamo a casa. Io resto a casa e faccio la pizza. Io resto a casa con la mia bella macchina da cucinare. Ciao! Io resto a casa. Io resto a casa. Approfittatene per fare qualche lavorante in casa, lasciate i camper fermi. Io sto a casa. Sono tante le cose che puoi fare restando a casa. Ma la più importante di tutte è salvare delle vite, compresa la tua. Io resto a casa. Noi stiamo a casa. Io resto a casa. Io resto a casa. Io resto a casa. E voi? Io e Mickey stiamo a casa. Noi restiamo a casa. Io resto a casa. Io sto a casa. Ciao! Ciao! Ciao!